Buon pomeriggio dallo Stadio Spinelli di Alife per una nuova stagione con Caserta Sera Stadio, lo spazio riservato al dopopartita. In questa prima giornata di campionato abbiamo assistito ad Alife Olimpia Riccia, terminata con 1-0 per i padroni di casa. Ma diamo spazio alla sigla per poi ritrovarci subito dopo con le consoede interviste. Bentornati con noi in diretta dallo Stadio. È il momento di ascoltare quelli che sono i protagonisti della giornata. E lo facciamo attraverso i microfoni della nostra inviata Valentina Monte, che vedo già collegata. Sono in compagnia di nuovo mister, mister Morra, a cui va innanzitutto il nostro augurio per questo incarico. Mister, una Alife che porta in casa una vittoria, sebbene tante siano state le occasioni mancate, è un rigore sbagliato? Sì, l'importante era la prova dei miei ragazzi perché è una squadra abbastanza giovane, quindi diciamo che abbiamo incontrato una squadra abbastanza esperta. Però è giustamente come ha detto lei che la partita la potevamo chiudere sia al primo tempo sia durante il secondo tempo. Però purtroppo il calcio è questo. Fortunatamente poi abbiamo resistito in dieci e abbiamo visto proprio che era tanta la voglia dei miei ragazzi di conquistare questa vittoria a tutti i costi. Quindi un merito, un elogio va proprio a loro, diciamo, perché ce l'hanno messa proprio a tutti. Prossimo appuntamento in trasferta col Sesto Campano. È un'altra battaglia, diciamo, perché Sesto è sempre una squadra che ha lottato sempre per i primi posti. Voglio dire, è una squadra esperta che sono tanti anni che fa questo campionato. Noi andiamo lì, ce l'andiamo a giocare sempre su tutti i campi, visto che è una squadra abbastanza giovane, senza dare troppo peso a quello che è il risultato. L'importante è che in campo si lotta, si va per divertirsi e con tanta determinazione. Poi quello che viene tutto di guadagnato, diciamo. Ringraziando la LIFE, passiamo la linea alla nostra inviata che in questo momento si trova nell'altro spogliatoio dell'Olimpia Riccia. Sono con il mister dell'Olimpia Riccia. Allora, cosa è che è mancato oggi alla vostra squadra? Ma è mancato un po' di concretezza, un po' sotto porta. Ci siamo mangiati un gol a tu per tu col portiere, doppio palo, secondo te. Però, ottima squadra, questa molto cinica. Primo tempo più parte Alifana e giustamente hanno trovato quell'Euro goal, poi dopo si sono mangiati il rigore fino al primo tempo. Però il secondo tempo più da parte nostra, però non siamo riusciti a fare gol. Mancata un po' di fortuna. Sì, un po' di fortuna. Poi oggi giocavamo rimaneggiati, mancavano quattro titolari, stavamo quattro espulsi. Prossimo appuntamento è con la città di Termoli. Sì, giochiamo in casa con il Termoli. Questa è un'altra battaglia. Il Termoli è candidato alla vittoria finale. Bene, la nostra trasmissione termina qui. Ringraziamo tutti i nostri collaboratori, ma soprattutto tutti voi che ci avete seguito. Alla prossima, vi aspettiamo!